Senta, io prima di dare dei numeri però le dico subito che la nostra borraccetta è dietro le telecamere, quindi noi già stiamo rispettando come trasmissione questo progetto perché ci teniamo all'ambiente, giusto? Giusto. E quindi è importante portare da casa la borraccetta e non disseminare plastica difficilmente, anzi quasi impossibile poi smaltirla, ci vorranno centinaia di migliaia di anni. Questo dobbiamo puntualizzarlo perché... Esattamente, sì. E questo è raccapricciante. È benissimo. Guardi, mi ha fatto venire sempre a questo punto perché... Quindi bere acqua dalla borraccetta ma ovviamente bere acqua da rubinetto perché l'acqua dei nostri rubinetti è un'acqua controllata. Grazie di cuore, grazie di cuore allora alla Presidente di Legambiente Campania per essere stata in nostra compagnia, per averci dato grandi consigli. Noi continuiamo naturalmente ad utilizzare le nostre borraccette per bere e per non inquinare l'ambiente. Classic Free, breve spazio pubblicitario. Grazie a tutti.